...da parte delle scienze matematiche e della statistica e proprio questo Alex Bennett è chi si occupa durante il testo, durante tutto il libro, di fare una serie di veri e propri schizzi, come se fossimo di fronte a una lavagna, schizzi dove ci mostra con un linguaggio piuttosto semplice una serie di assiomi statistici che poi l'autrice recupera per pensare quello che in realtà si può iscrivere dentro il campo epistemico di data studies, però cercando sempre di tenere assieme media e matematica e questo chiaramente anche perché insomma il profilo stesso dell'autrice è un profilo particolare, lei è un ingegnere in realtà della progettazione dei sistemi che però poi ha fatto un dottorato in inglese, in studi in inglese a Princeton. Per dare un po' qualche informazione, Wendy Chun è la chair del programma Canada 150 in New Media alla Simon Fraser, il Canada 150 è questo programma per il miglioramento della reputazione del Canada come centro globale di eccellenza per scienza, ricerca e innovazione e inoltre guida sempre alla Simon Fraser questo istituto Digital Democracies che è un istituto che ha come obiettivo principale quello di integrare ricerca nelle scienze umane, nelle scienze di dati per affrontare questioni insomma come uguaglianza, giustizia sociale con l'obiettivo di studiare quelle che sono le echo chambers, le camere di risolanza, questi fenomeni per cui nei social media spesso si può limitare l'esposizione di prospettive diverse e favorire invece la formazione di gruppi di utenti che la pensano allo stesso modo. Il Digital Democracies istituta queste quattro linee di ricerca che sono Beyond Verification che guardano insomma una linea che guarda l'autenticità e la diffusione della disinformazione, From Hate to Agonism che si concentra sulla promozione dello scambio democratico online, Disagrating Network Neighborhoods che combatte l'omofilia, vedremo in particolare di che cosa si tratta attraverso le piattaforme e poi Discriminating Data che insomma si occupa della centralità di categorie come etnia, genere, classe, sessualità nei big data e nell'analisi di rete. Dicevamo che c'è poi appunto un altro autore presente nel testo che Alex Barnett che è un matematico computazionale e anche un ex professore di matematica ed è appunto l'autore di queste parti scritte stile lavagna, sono molto belle come delle specie di compendi per i non esperti in matematica né in statistica, hanno questa forma, vi ho fatto alcuni screenshot delle pagine, trovo che sono molto carini e trovo che anche l'idea di aver utilizzato appunto questo stile insomma di scrittura a mano rende in qualche maniera questi argomenti che sono piuttosto difficili almeno per i nostri ambiti disciplinari da digerire piuttosto digeribili. E volendo fare uno stato dell'arte, condividere con voi uno stato dell'arte sulla produzione di Wendy Chun possiamo ricordare che l'autrice ha praticamente composto una vera e propria tetralogia sui data studies di cui il nostro discriminating data è l'ultimo testo. Gli altri testi, il primo del 2006, Control and Freedom, Power and Paranoia in the Age of Fiber Optics che sostanzialmente ha come domanda centrale quella di pensare come mai Internet che è un mezzo che soprattutto poi in quegli anni 2006 dovrebbe prosperare sul controllo e invece insomma pensato come mezzo per la libertà di espressione. Quindi perché su Internet la libertà sembra sempre essere più indistinguibile dal controllo? E la risposta che cerca di dare Chun è che nella vita offline esistono una serie di miti paralleli e paranoici che riducono i problemi politici in problemi tecnologici. L'evento centrale del libro è il Communication Decency Act del 1996 che è un atto promulgato dagli Stati Uniti per la liberalizzazione della pornografia online ma allo stesso tempo dà avvio alla governabilità degli accessi online attraverso le credenziali. Quella insomma pratica che parlano di giorno è quotidianità, lì veniva sostanzialmente organizzata per la prima volta. Secondo testo 2013 se non mi sbaglio, Programmed Vision, affronta invece il problema della programmabilità dei nuovi media cioè questi nuovi media che offrono delle visioni programmate che cercano di plasmare e predire. Vedremo che il problema della predizione è un problema che affronta anche nel testo che vi presento oggi perché insomma la programmabilità dei software è capace in qualche modo non solo di appunto plasmare il futuro ma anche di incarnarlo nei suoi utenti. L'autrice si sofferma molto sulle relazioni metaforiche che costruiscono i software, no? Su tutte pensiamo per esempio il mondo delle interfacce, dell'icone che insomma attraverso delle semplici figurazioni, no? Come possa essere il cestino eccetera eccetera, attraverso una logica insomma generale di sostituibilità e non ci fanno mai sapere, no? Quali siano le effettive manipolazioni, no? Programmabili che vi sono dietro queste semplici azioni. e infine updating to remain the same si occupa invece del fenomeno dell'obsolescenza tecnologica e di come i nostri corpi diventino alla fin fine dei veri e propri archivi di media obsolescenti mentre però in realtà non facciamo che correre dietro all'acquisto di media giustamente per poter recuperare questo ritardo. E quindi l'autrice si occupa in realtà proprio delle abitudini degli utenti e di come le abitudini diventino poi delle forme di comunicazione on e offline e delle forme anche per poter analizzare le macchine. E appunto vi propongo pensare questo testo all'interno dei data studies che sicuramente insomma un campo di interesse molto insomma molto attuale e anche molto recente che vi propongo anche pensarlo proprio come un oggetto interdisciplinare alla BART quando insomma nel suo brusio della lingua definisce il lavoro interdisciplinare come qualcosa anche che è capace di creare un nuovo oggetto che non appartiene a nessun ambito disciplinare anteriore. Ecco credo che per i data studies si possa anche pensare in questa prospettiva. sempre cercando di scrivere un po' questo ambito disciplinare vi cito qualche testo che è fondativo come What does a critical study look like? Why do we care? di Craig Dalton e Jim Thatcher che sono in realtà due geografi, cioè il primo è un esperto di geotecnologie basate sui dati e il secondo è un geografo digitale e sono sostanzialmente i primi che considerano proprio da una prospettiva anche epistemica il problema degli studi sui dati e lo fanno individuando sette provocazioni in questo articolo che è trovato molto interessante dove cercano di situare anzitutto i big data nel tempo e nello spazio poi di rendere di conto di come insomma sostanzialmente nessuna tecnologia sia mai neutrale per quanto possa presentarsi come trasparente che forse sono queste riflessioni per noi quasi dieci anni dopo piuttosto scontate però insomma riflettere anche sul fatto che men che meno i big data possono essere pensati come naturali ma che hanno sempre bisogno di un grande lavorio per essere catturati, messi in forma insomma secondo me sono riflessioni utili e poi tra queste altre provocazioni che loro insomma portano come tesi per la costruzione di questo ambito epistemico vi faccio anche presente che credo nella quinta loro stessi le definiscono provocazioni per questo termine e pensano le relazioni tra small e big data che secondo me è un aspetto molto interessante che magari a volte ci sfugge altri testi per pensare questo ambito disciplinare il testo di Dana Boyd It's complicated, the social lives on network at teens che sin dall'inizio inquadra il problema anche degli utenti giovani e chi quotidianamente soffresce di dati e lavora i big data come possono essere i giovani sulle plattaforme poi sicuramente autrici come Kate Crawford si sono occupate di pensare questo ambito disciplinare e di stenderlo anche ad altri come per esempio le AI Arts poi vi segnalo anche del 2016 Toward the Manifesto for the Public Understanding of Big Data scritto da due autori australiani Mike Michael e Deborah Lapton e infine insomma un'ultima riflessione su che cosa ha fatto la semiotica o che cosa potremmo fare noi dal nostro ambito disciplinare per pensare questo oggetto di studi ecco allora forse la semiotica si è avvicinata un po' tarda e big data sicuramente noi ce ne occupiamo sicuramente se ne è occupata Maria Giulia D'Ondero sicuramente se ne sono occupati anche Chartier Pulizzotto e Chartrand quando fondano la Computational Semiotics cercando di pensare quali possano essere le ragioni di questo ritardo forse insomma il peso della tradizione strutturalista che incoraggia verso l'analisi di corpora limitati e l'onero di pensare forse nuovi modelli perché effettivamente un archivio di big data insomma un dataset sicuramente non possiamo pensarlo come insomma come un testo nel senso tradizionale della disciplina ma piuttosto forse come un dispositivo che si può aprirsi a pratiche di significato di significazione ma che comunque devono essere localizzate ok quindi questo è un po' come insomma per scaldare i motori il libro che ha un primo sguardo vi invito a pensarlo come organizzato in una prima parse dance poi in una parse constraints in realtà ha un grande obiettivo di pensare la correlazione che tra parentesi è un concetto anche caro alla semiotica in realtà insomma l'autrice se ne occupa soprattutto in ambito statistico e in statistica la correlazione è una relazione tra due variabili tale che insomma a ciascun valore della prima corrisponde anche un valore della seconda e in base a una certa regolarità sottolineo questa cosa della certa regolarità perché giustamente Charles Sanders first è stato forse chi in ambito matematico ha pensato più insomma che ha pensato parecchio a questo problema il coefficiente proprio di regolarità delle correlazioni andando poi anche a influenzare lavori come quelli di Francis Galton e di altri autori che poi insomma torneranno anche nel libro e che effettivamente sono già apparsi in varie delle nostre ricerche sicuramente tutti ricorderete che Galton è chi ha lavorato i ritratti composti quindi il problema della correlazione come la correlazione garantisca sostanzialmente modelli predittivi di dati attraverso una messa in operazione della probabilità poi un altro grande problema è quello dell'omofilia e come l'omofilia naturalizza la discriminazione tra i dati favorendo perciò la segregazione e infine c'è tutta una parte dedicata a quella che insomma l'autrice pensa nei termini di una vera e propria retorica dell'autenticità che insomma sembrerebbe funzionare con i big data e il problema delle politiche del riconoscimento nella parse dense l'autrice diciamo cerca di analizzare come il machine learning costruisca delle forme di dati discriminanti perché crea dei veri e propri cluster basati su algoritmi che polarizzano precise echo chambers insomma camere di risosanza quindi il machine learning in realtà cerca di fornire delle ipotesi predittive di un futuro in base a delle paramodellizzazioni di dati del passato in questo modo si automatizzano degli errori non risolti e da queste osservazioni sembrerebbe anche impossibile immaginare un futuro diverso diciamo da quello programmato perché programmabile dall'intelligenza artificiale però poi c'è fortunatamente la parse constrance dove il libro dimostra che community is the neighbors insomma comunità e vicinati dove lei secondo me fa questa operazione anche interessante quasi metaforica tra come funzionano i dati e insomma nella nella loro geometria algoritmica e come funziona e come poi influenzano anche le vite le forme di vita che che ne fanno utilizzo e quindi in questa diciamo relazione tra communities e neighbors si possono si può arrivare a contaminare le operazioni algoritmiche di correlazione e di riconoscimento intervenire quindi sulle stesse retoriche che organizzano i dati quindi intervenire sull'omofilia e sull'autenticità che sono fondamentali per la comprensione dei dati insomma nelle attuali tecnologie di comunicazione e il libro si prefigge cinque obiettivi che sono qui elencati quindi investigare come ignorare le differenze anche per quanto riguarda proprio le differenze all'interno dei dati poi ve lo spiegherò con più calma amplifichi la la discriminazione il secondo obiettivo è interrogare quali siano i presupposti che formano la base degli algoritmi che quindi strutturino i dati poi capire come gli algoritmi di apprendimento automatico costruiscano le previsioni ed è molto interessante il lavoro fino anche che fa l'autrice proprio nel pensare a questo ambito dei data studies nel recuperare certe ricerche fatte tra gli anni cinquanta e sessanta in ambiti insomma di ricerca sociologica per pensare anche come insomma le ragioni predittive anche quando i dati diciamo erano insomma estratti da ricerche fatte sul campo o questionari hanno delle logiche piuttosto simili quarto obiettivo pensare come le previsioni diventano poi prova di una discriminazione passata e quindi insomma appunto in questa past construct pensare come poter intervenire e c'è una proposta per insomma a favore delle lotte per la desegregazione e l'uguaglianza è molto interessante secondo me questa ultima parte io ve l'accenderò un po' brevemente perché sì insomma è pertinente per facets però va un po' anche oltre e appunto l'interesse secondo me di quest'ultima parte è il recupero di insomma degli indigenous studies con la scommessa che effettivamente è proprio in quegli ambiti dove si è lavorato parecchio il problema e il fenomeno anche della connessione ma attraverso delle messe in prospettiva totalmente differenti rispetto a quelle delle delle scienze dei dati e quindi in questa messa in dialogo l'autrice trova una forma per pensare insomma una propria proposta costruzione diciamo ok e per raggiungere questi obiettivi il libro organizza diciamo una struttura molto molto serrata e molto anche secondo me bella infatti spero presto di averne anche una versione fisica del libro perché il libro è organizzato in quattro capitoli cinque interludi poi queste cinque parti che sembrano appunto scritto a mano dove sono spiegati questi a cinque assiomi della statistica ovvero la correlazione, la polarizzazione, la principal content analysis, l'analisi fattoriale, il teorema di bias e l'analisi della discriminante lineare queste per esempio sono le pagine dedicate alla correlazione e vi faccio un po' vedere la struttura del testo perché mi sembra piuttosto carina in giallo sono presenti gli interludi, in fucsia i capitoli e perché vi faccio anche un po' vedere come questa sua proposta di mettere in relazione diciamo una prospettiva sui studi di dati on e offline la riporti anche a recuperare paper che sono stati insomma spesso citati secondo l'autrice ma mai forse effettivamente letti che sono stati fondamentali anche per la costruzione di data studies ecco allora Red Pill Toxicity è il primo interludio al quale segue il primo capitolo Correlating Eugenics dove torna su un articolo del 2013 pubblicato da Kosinski, Stilwell e Grappel e lavora attraverso due assiomi statistici ovvero la correlazione e la regressione lineare per affrontare il caso del Cambridge Analytics e per vedere come le correlazioni che lei definirà in termine anche insomma eugenetico la sua scommessa può pensare che i data studies o più che altro insomma certe operazioni fatte sugli archivi di big data non solo evocano tematicamente o nell'ambizione alcune proposte dell'eugenetica del ventesimo secolo ma lo fanno anche metodologicamente vi spiegherò perché ecco poi un altro interludio il secondo capitolo è dedicato direttamente interamente all'amofilia recupera una ricerca del 1954 di Lasersfeld e Merton tra presente di una ricerca famosissima per esempio io l'avevo insomma insomma studiata per la prima volta quando insomma a Buenos Aires dove io ho fatto appunto un dottorato in design insomma il problema proprio della come dire della costruzione anche della pianificazione urbana è pensato su questa categoria omofila sull'idea dell'amicizia come elemento fondamentale per il processo sociale ma vedremo come in realtà appunto questa tesi verso l'omofilia in realtà costruisce questo forming of the segregated neighborhood questo brulichio del quartiere serrato dovrebbe quasi contrastare con l'idea di amicizia un altro interludio dedicato ai proxy dove recupera una serie di studi del fine insomma anni 90 quando ancora si poteva non credere no all'urgenza della crisi climatica e invece insomma recupera queste proposte di data viz le chiameremo oggi fatti da questi climatologi man Bradley youth attraverso una riflessione anche sulla stiamo statistico del principal content analysis terzo capitolo algorithmic authenticity dove studia il reality tv di Apprendizia e attraverso anche una lettura della noi a noi caro Goffman recuperando come siamo statistico il teorema di Bayes segue poi l'interludio quarto capitolo dove recupero un testo a me molto caro su quello io ho già lavorato e pubblicato e infatti non vi nascondo che una delle ragioni principali per le quali insomma ho scelto questo libro era per insomma capire anche eh quali possono essere le messe in prospettiva insomma dai media studies e dalla semiotica eh dai media data studies e dalla semiotica su uno stesso oggetto di studio un articolo piuttosto controverso sicuramente ve lo ricorderete e se non ve lo ricorderete per la mia presentazione è perché è quell'articolo dove sostanzialmente questi due eh studiosi eh di Stanford così Ski e Wan costruiscono quello che comunemente si conosce come gay radar ovvero una rete neurale capace di eh riconoscere secondo gli autori l'orientamento sessuale con maggiore efficacia rispetto agli esseri umani e infine un ultimo interludio Allora andiamo al succo della cosa e forse insomma avrete un po' capito non è esattamente un tasso che ha al centro quelli che potremmo eh pensare come ehm come face studies però questi quattro eh fenomeni che sono ricorrenti nei data studies dal mio punto di vista rappresentano delle categorie che sono di estrema importanza per i nostri studi e quindi insomma decido di eh presentarvele perché credo che soprattutto pensando anche al work packaging di quest'anno e quindi al problema di una fisionomica algoritmica insomma poter eh eh riconoscere questi queste quattro questi quattro fenomeni e poterli comprendere sicuramente può esserci d'aiuto e come vi segnalo nella slide sono fenomeni che riguardano sia categorie esteriche che retoriche sul funzionamento dei dati e che secondo me comunque possono essere anche utili per riflettere su quali modelli allora dal nostro ambito disciplinare dalla semiotica dovremmo pensare riaggiustare eh insomma progettare da zero o no per pensare una semiotica dei big data e o del machine learning e a me sembra interessante perché tutti questi quattro insomma fenomeni ora li chiamerò così ma li vedremo poi nello specifico credo che siano capaci di individuare quali siano le agency no di quel dispositivo che come vi dicevo all'inizio potremmo pensarlo come aperto verso pratiche di significazione come un archivio di big data che però effettivamente insomma ancora che è tutto da localizzare no da afferrare da comprendere allora partiamo quella con la correlazione che è insomma una relazione fondamentale no per la semiotica gremanziana ora che però è anche insomma la base del potenziale dei big data e del machine learning come vi dicevo un po' all'inizio nella correlazione quello che fa è misurare come due o più variabili variano appunto assieme anche Perth vi dicevo se ne è occupato dando proprio importanti contributi statistici in campo di regressione e coefficienza di relazione lavori poi che hanno appunto influenzato sia Francis Galton che Carl Pearson in generale potremmo dire che in una correlazione se le variabili aumentano e diminuiscono di pari passo sono altamente positive cioè sono fortemente correlate oppure se vanno in direzioni opposte sono negativamente correlate e quindi insomma sostanzialmente potremmo dire non producono senso nell'archivio dei big data in questa produzione di senso i big data hanno dimostrato che la correlazione spesso sostituisce la causalità no è che la scienza può quindi progredire la scienza la scienza dei dati ovviamente può progredire anche senza modelli causali anche cioè attraverso modelli che sostituiscono il cosa potremmo dire al perché e che invertono quindi la rotta nella direzionalità della coscienza cioè non si tratterebbe più di capire la ragione causale di una correlazione ma piuttosto la dimensione predittiva quindi il divario tra previsione e attualità in ogni caso come dire non riguarda una zona di comfort soprattutto perché le previsioni anche quando incoerenti sono spesso deliberatamente seminate insomma diffuse per favorire un comportamento spontaneo quando l'autrice quando Chun si occupa di questo fenomeno analizza e con certa meticolosità lo scandalo di Cambridge Analytics e quindi insomma chiaramente sta pensando a questo divario tra previsioni e attualità perché poi effettivamente sappiamo che insomma Cambridge Analytics il lavoro portato avanti dall'agenzia è stata in qualche modo capace di influenzare sia l'esito delle elezioni statunitensi del 2016 che del referendum della Brexit no? inoltre insomma continuare a pensare alla correlazione quindi a questo problema di predizione ci porta anche a pensare forse a un altro aspetto molto affascinante comunque dei data studies che insomma questo si riazziamo per il quale se tutto può essere dimostrato come reale quindi se ogni relazione può essere scoperta come facciamo sapere che cosa è vero allora questa che potrebbe essere forse una domanda anche un po' ingenio però a me serviva anche per continuare a pensare una relazione no? con la semiotica gremassiana perché insomma per la semiotica gremassiana per quanto voi sappiate io non sia siete sicuramente tutti voi che mi ascoltate molto più esperti di me organizza la messa in correlazione no? che sostiene sostanzialmente il quadrato semiotico su una relazione di contrarietà che però è pertinente no? la cui pertinenza è da trovarsi nel preciso testo ma e allora ritorniamo noi problemi della semiotica di una semiotica dei big data cioè come facciamo a trovare quella pertinenza quando si troviamo di fronte a un testo che insomma non corrisponde alle caratteristiche testuali canoniche come è il caso appunto degli archivi dei big data allora grazie a queste operazioni di correlazione i big data quindi legano il passato e il futuro cioè legano in realtà la correlazione con la previsione e lo fanno e questa è la tesi fondamentale di Chun attraverso una serie di metodi che sono di stampo di stampo eugenetico perché quello che fanno è recuperare attributi biologici immutabili e costruire queste insomma ragioni predittive attraverso questa idea di immutabilità del resto possiamo dire che nonostante insomma vi sia un secolo e forse anche più no più di un secolo di distanza tra leogenetica pensata da Galton e insomma i data studies contemporanei entrambi in ogni modo inquadrano il mondo come se fosse un laboratorio questo sicuramente succede in entrambi i casi tuttavia però vi sono chiaramente delle differenze e sono quelle che insomma vi elenco nella slide cioè c'è uno spostamento dell'attenzione dalla popolazione all'individuo la previsione diventa prevenzione no? e si passa anche dalla discriminazione alla omofilia poi ci deterremo tranquillamente sull'omofilia ma si passa proprio anche all'idea di uno stato-nazione cioè all'idea di quartieri no? di neighborhood cioè i dati ora non servono più per pensare un'identità nazionale ma per intervenire direttamente sulle scelte degli detenti in rete per esempio appunto nel ah no prima di passare a Cambridge Analytics insieme alla regressione lineare quindi la correlazione si è sviluppata nell'eugenetica biometrica del ventesimo secolo a distanza di un secolo appunto è stata recuperata e le correlazioni che in ogni caso quello che permettono di afferrare no? di catturare che è proprio il verbo con cui si parla di dati e di plasmare no? di modellare il comportamento umano sono capaci di predire un futuro ok come vi dicevo questi collegamenti tra machine learning ed eugenetica sono anche forse anzitutto metodologici e questo secondo me è il più grande contributo la più grande tesi di Chun perché insomma la storia dell'eugenetica della correlazione sicuramente fai concedere il presente e il futuro con un modello passato e gli eugenisti sono stati in grado di progettare un futuro che ripetesse determinate astrazioni discriminatorie sempre cercando di individuare quale fosse il noise e cercando di rendere il noise meno diciamo influente possibile ecco questo sembrerebbe mantenersi anche nella correlazione diciamo algoritmica e secondo l'autrice è attraverso questo secondo fenomeno che è quello dell'omofilia l'aspirazione per la quale sostanzialmente le persone diciamo simili tenderanno a costruire connessioni un'aspirazione del ventesimo secolo che nel ventunesimo secolo sembra diventare un vero e proprio assioma cioè la correlazione algoritmica stabilisce una serie di connessioni date attraverso similarità nei dati che sono capaci di costruire modelli predittivi attraverso cluster insomma di utenti simili diciamo il campo di studio la ricerca su cui lei basa tutte queste sue riflessioni è il caso insomma del Cambridge Analytics no quindi quella necessità di spostare l'elettorato indeciso un po' più a destra no? little more toward the right si diceva e che ha funzionato grazie alla scoperta di parametri capaci di predire quindi l'identità etnica, sessuale, politica e così via attraverso i like ora Cambridge Analytics non ha mai chiaramente dato a conoscere quali fossero gli studi o insomma le applicazioni del loro metodo però sicuramente questo lavoro anteriore di Kosinski che tra parentesi è lo stesso del Gay Radar e Stilwell e Grappel deve essere citato perché è un lavoro dove i ricercatori insomma hanno dimostrato come fosse possibile e facile soprattutto prevedere gli attributi latenti degli utenti di Facebook quindi tutte le categorie legate all'identità orientamento sessuale, etnie, opinione religiose, politiche, insomma tratti personali, intelligenza, felicità quindi tutti questi attributi latenti che appunto in teoria dovrebbero essere latenti, nascosti sono in realtà facilmente prevedibili grazie a delle operazioni di correlazione algoritmica e gli autori del paper riescono nel 2013, nel 2013 il paper a darne una prova perché allora Facebook aveva i profili ancora disponibili quindi fanno questo grandissimo lavoro su 58 mila utenti ai quali poi fanno compilare anche un questionario un questionario che fanno proprio girare su Facebook e che riescono così insomma a calcolare l'effettiva come dire prevedibilità insomma delle loro identità online ok passiamo al secondo fenomeno insomma che è quello dell'omofilia a cui ho dedicato tutto il secondo capitolo ed è questo insomma principio secondo cui la somiglianza genera connessioni addirittura appunto come vi dicevo l'autrice dà un sottotitolo molto carino secondo me a questo secondo capitolo che è il brulichio del quartiere segregato allora cos'è l'omofilia anche qui ci troviamo di fronte a un fenomeno che l'autrice utilizza sia per descrivere i dati da un punto di vista metodologico sia da un punto di vista fenomenico perché l'omofilia favorisce la scomposizione di reti sociali apparentemente aperte e sconfinate in una serie di comunità chiaramente oggigiorno una come dire una scomposizione che è anche accelerata dalle logiche di mercato ed è un'operazione che in realtà presuppone una discriminazione dei dati quindi una discriminazione che sia da un punto di vista metodologico che fenomenico sostanzialmente questo meccanismo per cui gli individui fanno comunità in modo che possa emergere un noi affettivo sancisce anche quella che Saramed ha definito come una politica culturale dell'emozione quindi una circolazione delle emozioni in forma di capitale quindi insomma una valorizzazione delle emozioni anche appunto in forma di capitale allora cosa vuol dire omofilia? insomma sostanzialmente l'omofilia dice l'autrice è quello che trasforma l'odio in amore ora sembra che io stia impazzendo e parlarvi in termini di new age però è molto facile intenderlo in questa maniera cioè come si dimostra sostanzialmente di amare i propri simili fuggendo sostanzialmente quando si vedono arrivare gli altri quindi l'idea di omofilia in realtà quello che costruisce è una serie di cluster uniti affettivamente intensi proprio su un'opposizione rispetto all'alterità quindi alla base dell'omofilia però che ripeto è sia una questione operativa e di modellizzazione dei dati che fenomeno poi derivato dalla messa in operazione dei dati troviamo il vero e proprio problema che è il problema topologico dell'invicinato cioè il machine learning è pieno di metodi che utilizzano topologie di vicinato per il riconoscimento dei modelli qua venivano elencati alcuni alcuni il key nearest neighbor, il key means testing, support vector machine per esempio prendiamo uno a uno allora il key nearest neighbor quello che fa è tracciare i confini tra i dati in base alla vicinanza e presume che i dati più vicini siano topograficamente cioè i dati più vicini topograficamente siano della stessa classe e il key means testing per esempio anche insomma utilizza la prossimità proprio spaziale dei dati per intuire l'esistenza di un cluster alla base di questa ragione omofila che struttura insomma l'apprendimento automatico l'autrice appunto individua questo testo che vi ripeto almeno in ambito americano è molto molto famoso non so se anche voi ne abbiate mai lavorato insomma sento parlare ne abbiate lavorato che questo friendship as a social process che è uno studio in realtà dove sociologico dove si arriva a valorizzare proprio la frammentazione cioè l'idea di quartiere la costruzione quindi di cluster per la proliferazione di un'ingegneria sociale ed è uno studio che è stato fatto appunto nei primi anni 50 su vari progetti di edilizia pubblica a sfondo multiculturale dove sostanzialmente si arriva a predire che più insomma più segregato però attraverso questa idea di omofila quindi costruito intorno a sistemi di connessioni basati sulle similarità quindi più è segregato un quartiere più sarà insomma insomma prolifico si potrà vivere meglio eccetera 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 ora ovviamente l'autrice cerca di farne un parallelo con con i clusters e i vicinati nelle reti sociali e insomma direi che questo parallelo è assolutamente azzeccato allora il terzo fenomeno è quello dell'autenticità come diciamo caso di studio lei recupera proprio The Apprentice questo reality show che aveva per insomma oggetto la vita dell'impresario Donald Trump di fatti insomma l'obiettivo finale del reality show era diventare l'apprendista di Trump vi faccio vedere il trailer ok abbiamo l'audio ma credo che non sia importante sentite l'audio scusatemi il volume del tuo computer così lo captiamo si scusate altrimenti no è un'impostazione quando apri allora datemi un secondo che magari ecco ok scusatemi non ci ho pensato l'ho trovato non ci ho pensato non ci ho pensato non ci ho pensato una metropolitura di un'attività di un'attività di un'attività che guida il mondo del business del mondo manhattan è un paio difficile This island is the real jungle If you're not careful It can chew you up and spit you out But if you work hard You can really hit it big And I mean really big My name's Donald Trump And I'm the largest real estate developer in New York I own buildings all over the place Model agencies The Miss Universe pageant Jetliners Golf courses Casinos And private resorts like Mar-a-Lago One of the most spectacular states anywhere in the world But it wasn't always so easy About 13 years ago I was seriously in trouble I was billions of dollars in debt But I fought back And I won big league I used my brain I used my negotiating skills And I worked it all out Now my company's bigger than it ever was And stronger than it ever was And I'm having more fun than I ever had I've mastered the art of the deal And I've turned the name Trump Into the highest quality brand And as the master I want to pass along my knowledge to somebody else I'm looking for The apprentice Bene, direi che ne abbiamo visto A sufficienza Sì, esatto Ho appena letto il commento di Bruno Ho visto che in Italia C'è stata una versione con Briatore Dove appunto l'obiettivo del reality Era diventare l'apprendista di Briatore Allora Allora Aspettate qui No? Basta? Ok, bene Allora Questo terzo capitolo appunto È dedicato all'autenticità algoritmica Che insomma È un'autenticità che lei cerca di analizzare Sia utilizzando appunto questo caso di studio Ma anche pensando ai sistemi di raccomandazione A filtraggio collaborativo Perché il suo obiettivo sostanzialmente È quello di verificare La misura in cui l'autenticità Al divenire algoritmica Diventa un valore Modellabile E prevedibile Perché funziona attraverso la correlazione E perché agisce sostanzialmente In una Nei cluster Dove appunto Si possono trovare queste reti omofile Chiaramente ci troviamo di fronte Insomma Alla retorica Dell'autentico Del self-branding Per cui sostanzialmente La mancanza di discrezione Qua oltre a Briatore Già citato Direi che è un caso Eccelso in questo senso È Silvio Berlusconi L'idea è che Insomma La mancanza di discrezione Fa coincidere Pubblico e privato E questa coincisione Cementifica ulteriormente La creazione di cluster E di cluster omofili Queste indiscrezioni Che insomma Che sanciscono L'unione tra pubblico e privato Sono secondo Ciung Insomma La chiave fondamentale Per la costruzione Dei cluster omofili E costruiscono poi La base Per la costruzione Dei modelli predittivi Perché sostanzialmente Più le persone Sono prevedibili Più lineari Più correlabili E più trasparenti Più Le loro cariche affettive Saranno intense E quindi Più sarà facile Sostanzialmente Poter intervenire Sul futuro Di queste persone E Ovviamente La retorica Dell'autenticità Tiene assieme Diversi ambiti Dei data studies Anche insomma Domini di competenza Dei media Perché ovviamente Insomma La retorica Dell'autenticità Forse È anche Alla base Dell'idea stessa Di media partecipativi E l'autenticità In questo senso Diventa un vero e proprio Etos Che è Capace di Insomma Dare valore Alle prestazioni Sociali Perché è autentica E modella I buoni utenti Utenti Specialmente Quando insomma Sono cattivi E per esempio Devono girare Devono svoltare Un po' più a sinistra E Ovviamente La retorica Dell'autenticità Non può che essere Una retorica Trasparente No Che insomma Che prescrive Una certa Trasparenza Del sé Perché alla base C'è anche un problema Di affidabilità Sostanzialmente Dei dati E quindi Insomma Facendo coincidere Diciamo sostanzialmente L'io interiore Con l'aspetto esteriore Diventiamo autentici E quindi Insomma Permettiamo La costruzione Di modelli Predittivi Anche in questo caso L'autrice Ritorna Al lavoro Dei Lasersfield Merton Perché Inquadra Secondo me Un aspetto Molto molto interessante Sul quale Io almeno Ho intenzione Di lavorare Prossimamente Con questo problema Dei fattori latenti Cioè Come si fa A costruire Questi E a rafforzare Questi Cluster Omofili Ovviamente La ragione Algoritmo In che funzionerà Attraverso una serie Di correlazioni Ma proprio per Insomma La costruzione Di questi cluster Sarà necessario Trovare Dei fattori Latenti Cioè Ovvero Cioè Sostanzialmente Dei modelli Inferenziali Che A prima vista Scappano No Alla Insomma Alla visione Di chi sta analizzando I dati Allora Qual è l'assioma Statistico Alla base Della scoperta Dei fattori Latenti L'autrice Ci ricorda Che L'inferenza L'inferenza Bayestiana Potrebbe Esserne Alla base Che sostanzialmente Funziona Proprio appunto Per la predizione Di modelli Di fattori Latenti E che un po' Richiama In una forma Riduzionista Diciamo Quasi l'idea Di multiculturalismo Cioè proprio l'idea Di mangiare Come l'altro Quindi creare Ancora una volta Situazioni Di similarità Che possano Garantire Metodi Di vicinato E che Grazie a questa Insomma Correlazione Che costruisce Dei vicinati Ed è capace Di vedere Fattori Latenti Si ha sempre più Possibilità Di modellare Strumenti Predittivi Capaci Di intervenire Sul futuro Grazie a una serie Di correlazioni Fatte su dati Passati Qua ho ripetuto La stessa cosa Scusatemi Ma Allora Qui più o meno Finisce Diciamo La parse D'estruence Dell'autrice E da qui Poi Insomma Si installa Secondo me Una domanda Molto bella Che è Chiederci Allora Cosa possiamo Fare noi Cioè come possiamo Reinterpretare Il vicinato Qual è il nostro Ruolo Come residenti Perché evidentemente Risediamo In dei cluster Come possiamo Giocare Dentro E con No Approfittare Di tutte Queste Estetiche Retoriche Dei dati Ecco Una risposta Che lei dà È sul ripensamento Delle politiche Di riconoscimento Che ovviamente Sono delle politiche Che sono Alla base Stessa No Del Insomma Della nascita Dello sviluppo Dell'intelligenza Artificiale Ma anche Alla base Stessa Della ragione Algoritmica Si ritrova Proprio il bias Della classificazione Tra parentesi Anche qui Una questione Molto importante Per la semiotica Per la semiotica Interpretativa Anche persiana Quindi L'organizzazione Di cluster Sotto Insomma Diciamo L'inferenza Di sistemi Di correlazioni Attraverso La regressione Lineare Garantisce Vicinati Omofili Dove si possono Riconoscere Dei pattern Insomma In questa ingegneria Delle caratteristiche Dei dati Questi pattern Che possono Stigmatizzare O consolidare L'opposizione O l'omofilia Verso L'opposizione Verso Un nemico Comune Oppure L'omofilia Verso I propri simili E Quindi Insomma Ovviamente Potremmo dire Che alla base Della ragione Algoritmica Si trova Proprio un problema Di politiche Delle identità No? Cioè Ed è interessante Che l'autrice Cerchi di Insomma Ripensare Anche questo problema Da un punto di vista Genalogico Recuperando anche La teoria Del riconoscimento Di Hegel E Allora Perché Il problema Del riconoscimento Chiaramente Insomma Il problema Della riconoscibilità Cioè Quindi Il problema Della registrazione Di somiglianze Attraverso Diversi contesti È la base Degli studi Degli studi Che hanno Insomma Lato vita Non hanno creato Insomma Quella che si chiama Intelligenza artificiale E Il recupero Della teoria Del riconoscimento Di Hegel In realtà È utile All'autrice Per cercare Un po' Di minare Anche Certa Diciamo Paranoia interpretativa Nei confronti Dell'intelligenza artificiale Cioè L'idea Che i computer Insomma Schiavi Che presto Sarebbero diventati Dei padroni Insomma Prima o poi Ci domineranno Sanzialmente Allora Ho buttato Un bel po' Di cose sul fuoco Faccio un passo indietro Magari Proviamo a capire Cosa vuol dire Riconoscimento In ambito di machine learning E poi continuiamo Con la relazione Con Hegel Allora Chiaramente Nel caso del machine learning Il riconoscimento Dei modelli Che dipende Dalle correlozioni Equipara L'inferenza Alla generalizzazione Quindi L'apprendimento Alla stima La classificazione All'analisi discriminante Quindi I sistemi Di classificazione Richiedono La costruzione E la scoperta Preliminare Di caratteristiche Invarianti Sulla quale Poi Si assegnano Delle discriminazioni Cioè Discriminazioni Proprio nel senso Anche Più Più Semplice Del termine Cosa sia Cosa no Per ridurre poi Gli oggetti A discriminanti E quindi Le caratteristiche Più discriminanti Sono spesso Valutate Positivamente Perché sono Quelle Insomma Dove è più facile Ottenere dei dati Per esempio Pensiamo Un esempio Piuttosto semplice Nel caso Dell'eye tracking Perché la tracking È così efficace Perché le discriminanti Delle color Delle cromatiche Degli occhi Sono così forti Cioè Costruiscono categorie E classificazioni Così appunto Diversificate Che Insomma Sono capaci Di produrre Insomma Dei parametri Che poi Funzionano Quindi Per comprendere Appunto Questo passaggio Dalla discriminazione Al riconoscimento Insomma L'autrice L'autrice cerca Di Utilizzare La filosofia Visto che appunto La politica Del riconoscimento È un aspetto Fondamentale Della filosofia E cerca Di farlo Attraverso Insomma La teoria Del riconoscimento Di Hegel Tra parentesi Autore fondamentale Per la comprensione Di Peirce Anche E In Hegel Sostanzialmente La formulazione Del riconoscimento È un vero e proprio Dramma Sociale Perché c'è Una drammatica Lotta Tra la vita E la morte Ora Io sono In stanza Con un filosofo Spero che Insomma Sia clemente Nei miei confronti Però insomma Una drammatica Lotta Tra la vita E la morte Tra padroni E schiavi Che è un po' Anche forse La stessa Insomma Retorica Con le quali Spesso oggi Ci riferiamo All'intelligenza Artificiale Insomma Nel ragionamento Di Hegel Che appunto Lo ridoco All'osso Credo che un po' Però tutti Lo conosciamo C'è l'idea Che l'autocoscienza In sé E per sé Ma è allo stesso Tempo anche Il risultato Del suo essere In sé Per sé Per un altro Cioè La soggettivazione Richiede sempre Un riconoscimento Sostanzialmente E Hegel Per darci conto Di questa cosa Recupera La famosa Narrativa Dello schiavo Padrone Che Ok Insomma Lo schiavo Che sostanzialmente Come dire La coscienza Del padrone Dipende sempre Dal riconoscimento E dal lavoro Dello schiavo No Cioè Quindi in realtà Il padrone Non è mai Autosufficiente Non è cosciente Perché non produce cose Non controlla E nemmeno controlla Il suo proprio desiderio No Quindi insomma Ripensare Questo Serve anche a ciò Un po' Per insomma Iniziare a minare Appunto Queste narrative Piuttosto Paranoiche Rispetto All'intelligenza Artificiale E fa un'operazione Secondo me Molto interessante Perché Insomma Perché recupera Un autore A me molto caro Che è José Esteban Munoz E cerca di tracciare Questo arco Che va appunto Da Hegel Fino a Munoz Vabbè Un triplo sarto Carpiato Mortale Quello che fa Però è interessante José Esteban Munoz È un autore Di origine cubana Che ha fatto in realtà Tutta la sua Carriera negli Stati Uniti Scomparso di recente Credo nel 2013 2014 Ha lavorato Soprattutto Nell'ambito Dei performance Studies Cioè dove In quegli ambiti Dove la performance Diventa anche Una lente epistemica E Munoz Quello che fa È proporre Questa categoria Di disidentificazione Perché è una categoria Che appunto Secondo l'autore Ha aiutato Soggetti Che insomma Definiamo molto Semplicemente Subalterni Che sono sostanzialmente Esclusi Dalla Insomma Dalle posizioni Di maggioranza E la disidentificazione Permette proprio loro Di sopravvivere Come permette di sopravvivere? Attraverso Insomma Una serie di Performance Che commissionano Insomma Che recuperano Le categorie Identificatorie Che in teoria Costruiscono Il loro gioco Ma Se ne appropriano Attraverso Performance Che vanno Tra il queer E la rabbia Ora Così come con Hegel Con Munoz Ho fatto Un vigino Di una riga Ma vi andrà bene Perché Quello a cui Voglio arrivare E in realtà E insomma Farvi capire Quali sono Le proposte Appunto Di questa Pars Construence Dell'autrice Perché insomma Nel corso Di tutto il testo Quello che lei cerca Di fare È di rendere Manifeste Queste Identificazioni Scivolose O la possibilità Che esistano Vere e proprie Disidentificazioni Per ripensare Le retoriche Alla base Del riconoscimento E delle estetiche Di correlazione Che caratterizzano I big data Quindi Se riconoscere Sempre identificare Qualcosa Che è già stato Conosciuto E percepire Qualcosa Qualcuno Insomma Significa Ritrovarsi In un processo Identificativo Anteriore Anche per l'algoritmo Identificare Automaticamente E rispondere Correttamente A un A uno stimolo Significa Riconoscere Un pattern E allora Forse È proprio In questa Potenzialità Storica Come la definisce L'autrice O Un ambito Insomma Un ambito Di lavoro Per Continuare A pensare Una proposta Per i big data Al di là Appunto Di queste Narrative Paranoidi Quindi Magari in chiusura Perché vedo Che sono già Le tre Dieci Io avevo preparato Un ultimo Escurso Sputtosto Veloce Su Questo Studio Che anche per me È stato molto importante Soprattutto nel primo anno Sul quale Io ho anche pubblicato In The Signis Però in una In un volume Che ancora non è uscito Dedicato a Semiotica E femminismo Ma sì dai Ve lo spiego un po' Velocemente Perché Secondo me È interessante Capire anche Quale può essere Il nostro contributo No? Per Insomma Di fronte a A questo tipo Di operazioni Allora Allora Sostanzialmente I due autori Sostengono Che le macchine Sono più accurate Appunto Come vedete nel titolo A riconoscere Le caratteristiche Facciali Che indicano L'orientamento Sessuale No? Come fanno Per fare tutto ciò? Beh Anzitutto Insomma Usano E secondo me Questo è una cosa da meno Insomma Programmi e metodi Molto standard E disponibili Quasi tutti in open source Per produrre questo Gear radar Anzitutto Raccolgono 300 300 Non ricordo 400 mila immagini Da un sito di incontri Statunitense Si pensa che sia Ok Cupid Dove chiaramente I profili sono pubblici Quindi meno costosi Abbondanti Ma Un Sito Soprattutto Dedicato Ad utenti A utenze Diciamo Caucasiche Questo è un altro Fattore fondamentale Poi Usano Un programma Insomma Comune E facilmente Disponibile Come face Plus Per creare I contorni Dei volti Che è l'operazione Che state vedendo E poi Sulla base Di questi Contorni Rimuovono Un po' Come sta facendo Il nostro Algoritmo Di fresco I volti Parzialmente Nascosti Quelle piccoli Quelli che non sono Insomma Del soggetto Successivamente Impiegano I mechanical Tracker Per verificare Insomma Che i volti Fossero di adulti Che fossero Completamente Visibili Tutto quello Che noi Per ragioni Insomma Di etiche Non abbiamo potuto Fare Per fortuna Anche direi E organizzano Poi Un set Di immagini Che Ok Che sostanzialmente Scompone Tutto questo Questo data Sette In 4.000 Variabili Indipendenti A 500 Dimensioni Costruisce 20 Costruiscono 20 Sotte Insiemi E Arriva un po' Al succo Quello che fanno È creare Una mappa Di calore Dove Individuano Quali siano Appunto Le geografie Facciali Più Interessanti Più Insomma Più Performanti Per L'identificazione Di quelle caratteristiche Che sarebbero Poi capaci Di Appunto Dare Predire Insomma Dare informazioni Sull'orientamento Sessuale Vedete bene Che le zone Sono quelle Sugli occhi Bocca Naso E Una volta Individuate Queste zone Di calore Costruiscono Forse questa Sì Ve la ricorderete Perché credo Che anche La notte Dei ricercatori Dell'anno scorso Ve le avessi mostrato Una serie Di archetipi Di Attraverso La tecnologia Di composite Dell'immagine Insomma Della fotografia Composta Che è la stessa Di Galton Che abbiamo Già sappiamo È stato influenzato Da Peirce Ma alla fine È tutto un problema D'iconismo E quindi Secondo me Anche qui Forse c'è Insomma Un grande lavoro Da fare Per la semiotica Perché la semiotica Si è tanto Occupata No Di Insomma Del problema Dell'iconismo E Alla fine Sostanzialmente Questi archetipi In realtà Non fanno Che Individuare Ve la faccio Brevissima Tutta una serie Di Forse più che Gay radar Potremmo dire Di style radar Perché le caratteristiche Facciali Che diventano Significative Sono quelle Che riguardano Tutta una serie Di accessori Quindi tutta una serie Di come li definisce Gabriele E fenomeni epifacciali E accessori Che invece Come insomma Nel testo Che abbiamo rappresentato Perto poi Con Elsa Sono chiaramente Argentivi Sulla costruzione Insomma Facciale Del senso E che sono Insomma Occhiali Capelli Da baseball Infatti Vedete per esempio Che nel ritratto Insomma Nell'archetipo Composito Del maschio Etteressuale C'è Una zona Di ombra No Sulla fronta Sulla fronte Perché quella Insomma È la ridondanza Della presenza Di questi cappellini Da baseball Allora Arriviamo un po' Alle conclusioni Perché sì Sono le tre Un quarto E Chiaramente Insomma Anciutto L'autrice Forse anche noi Con lei Arriva a chiedersi Insomma Che bisogno Abbiamo noi Di avere una tecnologia Di riconoscimento facciale Che conferma Non so Che gli uomini Bianchi Gay E le donne Etero Bianche Tendono a depilarsi Le sopracciglia Ecco Io non credo Che quella Sia la domanda La formulare Ma quanto Piuttosto Insomma Cosa Quali sono Insomma Cosa possiamo Noi imparare Dall'apprendimento Automatico Forse anche Disimparando Dalle previsioni Insomma Quindi Chiaramente I modelli Di apprendimento Automatico Possono Liberare Alcune Una serie Di dati Che però Possono anche Diventare Esplorativi E speculativi Noi credo Che questo Che insomma È anche una proposta Che fa l'autrice Anche a mia maniera Di vedere Forse l'orizzonte Più interessante Quindi andare Forse un po' In là O ripensare Direttamente Cosa voglia dire Alla predizione E pensarla Anche in senso Speculativo Proprio a chiusura Vi faccio solo presente Che c'è un articolo Molto bello Che si chiama Che si intitola Making kings Scusate Making kings With the machines Ovviamente Riprendendo Il motto Insomma Il lemma Di Donna Haraway Making kings Not babies Per pensare Insomma L'emergenza Attuale Quello che si definisce Antropocene Però Anche qui No Allora Secondo me Insomma L'importante È creare Tessuti Di parentela Con le macchine Magari Andando appunto Al di là Del problema Predittivo Magari Cercando anche Di pensare Esperienze Speculative Immaginative Insomma Recuperando anche Magari I mondi Fantascientifici Di Di Octavia Butler E basta Magari con Octavia Butler Direi che ho finito E vi ho bombardato A sufficienza Mi Grazie a tutti